Eccomi per l'ultima parte perché poi in realtà devo andare, perché sono fatte le 12.28 quindi andrò a prendere la mia amica tipo alle 12.37 Quindi giusto in tempo per recuperare qualcosa Ah ecco stavamo guardando il vestitino questo qua di intimissimi che è stra carino, vi ho detto che era una taglia S ma ho già rimosso perché poi ho guardato altre cose e altre taglie Esatto taglia S ed intimissimi nero, è stra carino anche questo qua, adesso ve lo mostro Allora, nero manichetta così Guardate che bello Corpo così con tutte le, con tutto questo macramé a fiori Bello l'elastico nel punto vita, è una taglia S e dietro ha anche il fiocchino da fare perché la marca è dietro quindi E anche questo qua arriva tipo al ginocchio e la parte finale ha tipo la cosa così, la banda, è carino eh Bellissimi gli abiti intimissimi, viene 3,50€ intimissimi Sapete quanto costano gli abiti intimissimi? Costano tantissimo tipo 50€, adesso non so Questo invece ha uno svuoto armadio, era mio, l'avevo preso qua in stock ma purtroppo mi è scappata, mi scappò la taglia e non l'ho misi mai C'era anche il bollerino sopra ma non so se l'ho venduto, se è ancora sepolto nei cestini o qualcuno l'ha preso, è di Nemo ed è stupendo, è tipo un Nemo vintage e corrisponde a un 44€ questo abito meraviglioso Guardate che bello, blu viola, no è viola, non è blu Fatto così Arriva anche questo al ginocchio ed è stupendo, è fatto bene, guardate E viene 5€, è di Nemo, l'avevo pagato in stock, poco di più in realtà perché non era uno stock vero e proprio ma l'avevo preso per me Andranno venuti qua a propormelo ma in realtà mi sa che non l'ho proprio mai messo e c'era anche il suo bollerino Only XL magliettina Basic, che mi dite che non ho le taglie morbide, qua siamo sul 50 Arighine, ottime condizioni nera, col scolla B, bellissima, 48,50 secondo me Basic in ottime condizioni viene 2,50€ della Only Sono quelle magliettine nere, carine, basic da mettere, insomma, con... E questa è anche carina per essere un basic perché ha un bello scolla B, quindi esalta il décolleté e c'è questo pizzo E poi il tessuto a righine è molto fine Questo è un reggiseno massaggiante, taglia quinta, non ci sono più però i... Non c'è, c'è lo spazio ma non c'ha i leccetti diciamo, la cosa del reggiseno quindi da portarti qua a fascia Viene 1€, è bellissimo, colore crema e ha tutta la cosa massaggiante All'interno, bello Poi, una mutanda, taglia morbida, San Valentino strasexy all'insegna del sexume Di Venus, 54, 56 Questa è bellissima Ora devo capire qual è il davanti e il dietro No vabbè, questa è troppo sexy, non so se magari mi bandano da YouTube Questa è veramente una mutanda sexy però Penso che il davanti sia questo perché l'etichetta è dietro No vabbè, cioè, io non mi imbarazzo con nulla però Vabbè non segnalatemelo, sto vendendo intimo Viene 1€, è fatta benissimo così 54, 56 E ho scoperto ora Che ha tipo l'apertura sotto Vabbè, cioè, non è che dobbiamo sconvolgersi nel 2024 Però questa, questa davvero fa felice i mariti, i amanti, i fidanzati Cioè, è aperta sotto Però, non me l'aspettavo Non pensavo perché sembrava una cosa un po' bondage Però, non così, esplicit Oh, è così Vabbè, qualcuno non si vergogni la prenda Che è bella, è una bella mutanda Dubito che riuscirò a venderla però, vabbè Ci proviamo perché io provo a vendere tutto Toppettino vintage Tunnel, scusate Passiamo su 44, 46 Trasparentino, fatto molto bene Anche questo qua è un pezzo vintage Viene 50 centesimi Ed è, secondo me, tra il 44 e il 46 No, più 44, dai Però è morbido qua sopra, quindi Anche 6, anche 6, va bene È bello questo qua, è tutto velato Tipo quei tessuti vintage, una volta Fatto bene anche davanti, trasparentino E poi, l'ultimo Ah, questo non so se ve lo faccio vedere No, questo no Non mi sconchissera E poi cosa vi faccio vedere? Aspettate Non ho Più tempo per sramatizzare La mutanda scabrosa Mi sono scandalizzata pure io Ma non è che mi sono scandalizzata Per la mutanda Mi sono scandalizzata Solo perché non me l'aspettavo Spero che voi non vi scandalizzate Non credo, dai Vi faccio vedere due borse Così mettiamo gli animi Questa, che è molto carina Nera Sono di tutti nuovi arrivi Questa deve essere in ecopelle Ma è fatta molto bene Non capisco se è ecopelle o pelle Perché è vintage Sembrerebbe anche in pelle Io questo non ve lo posso dire con certezza Però secondo me potrebbe essere anche in pelle In ogni caso viene 13,90 euro Ed è una bella borsa Tutta particolare Dall'odore Non mi sembra pelle Però è fatta bene Che divido Devo dirvi Molto carina Fatta così Ed interno è così Con la zip E il tessuto E anche qua gli inserti Sembra davvero molto bella E vabbè Materiale sconosciuto Ma molto carina E poi Ce n'è un'altra di Rocco Barocco Che adesso vi tiro fuori Qua dai meandri Delle cose qua Devo sistemare Tutte queste cinture Queste robe qua Appese Che mi danno solo che fastidio Adesso ve la mostro Che poi devo smammare Perché si è fatta una certa Ok E questa invece è una vintage Di Rocco Barocco Bellissima E anche qua Il materiale è sconosciuto Aspettate Io le annuso per capire Se c'è scritto Sarebbe sempre gradito Ma non c'è scritto Sì c'è l'etichetta Questa sarà in ecopelle Secondo me Tvc Esatto Fantastica Vintage però Si conserva molto bene Una bella borsa nera Da giorno Adesso ve la mostro Scusate ma Magari se potevo guardarlo prima Era meglio È di Rocco Barocco È rimasta in tonza Per tutti questi anni Quindi penso che avrà ancora Una lunga vita davanti a sé Senza spallarsi Borsa da giorno Di Rocco Barocco Guardate che bella Con l'effetto così Tutto cocco Ed è scritta Una bella borsa nera Ne grande Ne piccola Una via di mezzo Però molto capiente Dietro così In ottime condizioni È bellissima anche la tracolla In tessuto Che potete ovviamente regolare Fatta così E viene 8 euro Guardate che bella Molto carina Anche per outfit Più sportivi E Ma non riesco mai A finire un video Devo farvi vedere Sempre qualcosa Porca miseria Mi piace Vi giuro Che vi farei vedere Di tutto Dai vi faccio vedere Questa che è scontata Che è ancora qua Che è così carina In tessuto vintage Argento Con tutte le cose lurex Che vi ho fatto vedere Non volete avere la borsetta Da abbinare È questa Anni 2000 Grigia Guardate che bella In tessuto L'avevo già proposta Alle ragazze Nel gruppo di whatsapp Ma Magari adesso È più È più appetibile Qua c'è il bottone E qua c'è la zip Bella la forma Anni 2000 Si usano tantissimo Queste borse E le vedo un sacco Viene 3 euro Quello svuota tutto Ed è un affare Perché in realtà Questa potrebbe essere venduta Molto di più E basta Cosa che c'è ancora qua Che non vi ho mai fatto vedere Magari Sono ancora cose invernali Dolcevitino Stradivario Staglia S Carino anche questo Viene un euro Quello svuota tutto È un S morbida Va bene anche M E la manichina Un po' anni 80 Melangiato Bello E adesso devo andare davvero Devo andare davvero Questa gondellina qua Invece Che carina è Questa è una È piccolina 38 Massimo 40 In caso vi misura In caso vi misuro la vita Ma guardate che carina Un uovo arrivo Fatta così Non è né leggera Né pesante È una via di mezzo Non so dirvi il tessuto Ma è molto particolare Viene 3 euro e 50 Ruota Vita alta Bella anche questa E Un gilet Un gilet Un gilet More and more 34 Taglia 38 Italiana Questo però è un po' rovinato È un po' rovinatino dietro Quindi viene 50 centesimi Perché qua vedete C'ha questo effetto used qua Però è bellissima la parte dietro Taglia 38 Italiana Con i bottoncini Doppio petto I bottoni ci sono 50 centesimi E poi Non mi ho accolta Che era rovinato dietro Vabbè 50 centesimi Che male c'è Vediamo se trovo ancora qualcosa C'è qua Ci sono mille cose qua Ma Devo selezionare un po' Disegual Vi faccio vedere un abitino Della Disegual Che so che vi piace tanto Questo è Una taglia media Disegual Originale Abitino In maglia così Ok Siamo su 44 Assolutamente Viene 3 euro Con lo suota tutto Direi che può bastare Perché in realtà Sono proprio Cioè proprio ora che io vada Ragazze Spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa fate Oggi che è San Valentino Come festeggerete Anche se il video Poi lo vedrete stasera Perché Connessione Quello che è Io vi ringrazio tanto Grazie per aver visto Questo video E grazie per apprezzare Le cose Mi avete svuotato bene Il cestino dei lurex Sono molto contenta Di tutto ciò Scusate per la mutanda Tutta me Deve non capitare Soprattutto il giorno di San Valentino Vabbè È così È così È così Vi faccio vedere No dai basta Al prossimo video Ciao